Sei chiesto tante volte come suonare il charleston? Oggi lo vediamo! Ciao Enrico Parolin, oggi ho deciso di parlare di charleston. A mio avviso per suonare il charleston, per conoscere questo fantastico strumento, tra l'altro uno degli tre strumenti più suonati della batteria, che è charleston cassa e rullante, comunque dicevo per suonare questa figata pazzesca bisogna rispettare a mio avviso tre cose. Uno, il genere che vai a suonare. Secondo, la tecnica che tu vai ad applicare. Terzo, a quello che ti serve dal charleston. Diciamo che cambiando la posizione di dove vado a suonare e anche cambiando di come suonare il charleston, cioè con che parte della bacchetta, ovviamente ottieni un suono. Se tu vuoi ottenere un suono molto fermo, utilizza la punta al centro. Se tu invece vuoi ottenere un suono un po' più trashy, utilizza la parte, diciamo la parte, quella laterale, utilizzando la pancia. Ti faccio vedere adesso tre generi musicali. La prima utilizzando, che utilizza spesso il batterista di James Brown, utilizzando il centro con l'apertura del charleston. Il charleston lo puoi aprire anche con il piede e ti dà questa sensazione. One, two, three, four, ottavi. Two, three, four. Uno, 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 uno. Se tu ad esempio vai a fare swing, quindi vai a utilizzare il suono dell'uno e del tre per lo swing, consiglio di spingere con la pancia della bacchetta verso il basso, insomma che ti dia quella sensazione di apertura. Uno, 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 uno. di Steve Jordan, uno dei miei batteristi in assoluto preferiti. Lui ha la tendenza a suonare, quando suona il suo mood, il suo funky, il suo shuffle, il suo punto, il suo modo di suonare, utilizza il charleston con la pancia della bacchetta suonato un po' trashy, in questa maniera qua. Ora andiamo a vedere una piccola base dove suonerò tutte e tre la tipologia di charleston. Uno, 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 uno. Uno, 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 uno. Bene, a questo punto ti ringrazio, ti auguro una buonissima giornata, ringrazio l'azienda che mi aiuta con i piatti che è Amidia e in essere BOMAP a Bologna, seguimi sulle mie pagine Facebook e Instagram www.enricoparolindrums.com, non c'è oggi PDF, iscriviti al canale, iscriviti per migliorare sempre, cerco sempre insomma nuove idee, se hai delle idee buttano e così intanto insomma cerchiamo di svilupparle e a questo punto ti saluto, ti auguro una buonissima giornata da Enrico e tutti, ciao! Ciao!